Buonasera mister, eccoci qui con Baby Pillon. Io annuncio subito che poi dovrò riportare quanto ha detto il presidente Sebastiani. Quindi si prepari Pillon, intanto questi tre punti splendidi. Fondamentale aver vinto contro una grande squadra, perché generalmente nel primo tempo siamo andati in grandi difficoltà dopo i gol. Secondo me fino al momento del gol abbiamo fatto bene quello che avevamo detto, di cambiare spesso il campo, l'ampiezza del campo. Sì, fino al momento del gol, lo sto dicendo. Poi abbiamo ritratto il balicentro della squadra, troppo presto, dovevamo stare più alti, giocare più aggressivi, come non abbiamo fatto. E abbiamo subito la loro fisicità, il loro gioco e giustamente loro sono passati in vantaggio. Poi nel secondo tempo la musica è cambiata. Perché? La chiave. La chiave è l'atteggiamento, sempre. Nel senso che tu, quando vai in campo, metti l'ardore, i contrasti, cominci a vincerli, cominci a ribaltare i fronti, cominci a metterli lì, ci credi di più. E alla fine poi abbiamo vinto meritatamente per l'ultimo quarto d'ora che abbiamo fatto e che abbiamo messo là. L'ultimo quarto d'ora con Bruno davanti alla difesa e che alla fine con Sottil, quindi 4-3-3, tra l'altro dal piede di Sottil, la pennellata per il colpo di testa di Scogna Miglio, i cambi vincenti. Sì, sì, sono molto contento dei ragazzi che sono entrati, ma non avevo dubbio su questo. Non si gioca mai in 11, ma sempre in 14, perché quando i tre che entrano dalla panchina devono essere decisivi perché sono freschi e stasera ci hanno dato una grossa mano. Chiuderemo con una cosa bella, però adesso le riporto le parole del presidente Sebastiani. Ha detto, primo cambio non l'ho capito per niente, primo tempo abbiamo regalato la partita, potiamo subire quattro gol. Con Bruno e Brugman più alto e con i tre attaccanti ho visto il Pescara che voglio vedere, che qualcuno lo capisca, con le buone o con le cattive. Il presidente può dire quello che vuole, io faccio il mio lavoro, se avrò la possibilità fino alla fine lo farò. L'ultima, e questa è una cosa bella, è stato ancora una volta il più veloce dopo il gol di Scogna Miglio ad esultare. Freschezza atletica di Baby Pillon, dai raccontaci quel momento. Da 63 anni, insomma sono in forma lo stesso. Cosa ha provato quando ha visto la palla di... Prima tra l'altro Gravillon, miracolo di Pomini, poi il colpo di testa vincente, dai raccontaci quei momenti. Uno sfogo, uno sfogo che avevo dentro perché dopo il primo tempo onestamente non ero molto contento, però ho cercato di tirare sulla squadra perché avevamo bisogno di andare in campo con una motivazione diversa. Ed è stato così, l'atteggiamento, le motivazioni, lo spirito di rivalza, deve esserci perché è importantissimo in questa squadra. L'ultima rapida da parte mia, la prima volta dal primo minuto in stagione con la difesa a tre. L'aveva provata qualche volta a partita in corso, perché questa scelta tattica? E chiudiamo. Ho fatto questo per sopravvivere la loro fisicità dei due attaccanti, nel senso che avevo paura nei cross, nei traversoni, la loro fisicità che sono molto abili nel gioco aereo, molto forti fisicamente e volevo controbattere questo per non dare la possibilità a loro di andare in uno contro uno anche con le nostre due centrali. Perciò ho fatto questa scelta, soprattutto per il cross, per queste cose qui, però abbiamo subito lo stesso nonostante questo accorgimento che abbiamo fatto. L'ho fatto e l'ho fatto con cognizione di causa, poi le cose possono andare bene e possono andare meno bene.